Quello che avete visto accadere nella centrale di Energodar supera la fantascienza e i film dell'orrore. Ieri si è combattuto in una centrale nucleare, la più grande centrale nucleare d'Europa, dove c'è stata battaglia a colpi di missili e lanciagranate. Non è casuale, in questi ultimi giorni i russi stanno cercando di prendere il controllo o comunque condizionare la produzione di energia elettrica. Lo stesso è accaduto a Sumy, è accaduto a Kharkiv, la città martire di questo conflitto, dove i russi hanno colpito i serbatori che vi forniscono le centrali o le linee elettriche che partono centrali. Lo hanno fatto anche a Kiev con missili di precisione. Questo è un altro messaggio terribile che viene lanciato all'Ucraina. Siamo pronti a staccare la luce e a lasciarvi al buio. Ieri tutti speravamo in una tregua, ma la tregua non si è vista. Anzi, c'è un aumentare dei combattimenti e della pressione russa su tutto il fronte. In questo momento la propaganda russa sta aumentando la diffusione di immagini del conflitto. Prima ce n'erano pochissime perché al popolo russo non veniva presentata la guerra. Adesso Putin deve giustificare il numero di caduti che viene comunicato e mostra i combattimenti con forza. In queste immagini si vedono anche tanti mezzi corazzati ucraini e soldati ucraini morti o catturati. Finora non avevamo visto soltanto il lato russo delle perdite. Adesso vediamo l'altro lato della battaglia. Una battaglia eroica che stanno conducendo le truppe ucraine. Ma Mosca non ha nessuna intenzione di arrendersi e i social sono pieni di foto e di video di altre colonne di cavarmati che si accumulano a Kursk, a Voronezh, una quinta terribile ondata che nei prossimi giorni potrebbe precipitare sulla resistenza del popolo ucraino.